Domenica 19 luglio dal Col del Liss parte un'escursione, si ripeterà poi nel mese di agosto, che unisce il trekking alla storia della Resistenza. Sì, è vero, è il secondo anno in cui organizziamo delle escursioni della Memoria sui sentieri dei partigiani dell'ecomusea, in particolare sul sentiero dal Col del Liss al Col della Portia, che è il tratto finale di una tappa del trekking sentieri resistenti da view al Col del Liss. E' un'escursione della Memoria perché oltre ad avere le caratteristiche delle normali escursioni, è anche l'accompagnamento di uno storico che racconta le vicende che in quei luoghi hanno caratterizzato la vita dei partigiani della 17esima Brigata Garibaldi in questo caso. E' un tentativo di coniugare l'escursionismo con la Memoria della Resistenza e anche un modo per dare maggior vigore al ricordo delle gesto partigiane. Grazie